Infermieri di sala operatoria non sostituibili in permesso e il direttore sanitario Pasquale Vastola costretto a ridurre l'attività chirurgica, garantendo comunque l'urgenza. Una temporanea riduzione del servizio si è reso necessario per l'assenza in contemporanea di tre infermieri in servizio presso le sale operatorie, ruolo che non consente una sostituzione rapida e l'adozione di provvedimenti tampone, in quanto l'infermiere addetto alla sala operatoria richiede una preparazione ed una formazione adeguata che non è propria della figura infermieristica ma può essere raggiunta solo dopo un'attività formativa di alcune settimane. In considerazione quindi dell'indisponibilità del personale che per motivi diversi è venuto meno e non potendo sostituire i tre infermieri con altro personale proveniente da altri reparti e quindi non adeguatamente formato, il direttore Vastola, in accordo con i primari di anestesia e chirurgia dopo attente valutazioni, ha stabilito la temporanea contrazione dell'attività chirurgica in particolare per ciò che riguarda l'interventistica programmabile ossia quegli interventi che possono essere programmati e non hanno carattere di urgenza. Una scelta basata essenzialmente sulla necessità di garantire la sicurezza e tutelare i pazienti stessi che in caso di intervento chirurgico necessitano di opportuna e adeguata assistenza nelle sale operatorie. Quindi, in attesa che rientri il personale al momento assente, si è deciso di ridurre temporaneamente il numero degli interventi chirurgici per oculistica, ginecologia e urologia, fermo restando che eventuali urgenze dovessero presentarsi anche in queste tre branche specialistiche saranno assicurati comunque gli interventi. Nessuna modifica è stata invece prevista per chirurgia generale che resta pienamente operativa. Si tratta di un provvedimento di urgenza e temporaneo in attesa che rientrino gli infermieri di sale operatoria che sono al momento impermesso pare per malattie o per ferie. Intanto, il direttore Vastola si sta attivando affinché presso Luigi Curto arrivino altri infermieri a supporto dell'attività sanitaria del presidio. Grazie a tutti.